Ciao, sono Giuliano Longo, direttore editoriale di Cinque Quotidiano. Oggi vi vogliamo parlare delle cooperative sociali. Le cooperative sociali le possiamo definire una sorta di fabbrica dell'assistenza sociale. Sono diffuse su tutto il territorio, soprattutto sopperiscono a quelle che sono le carenze di assistenza pubblica degli organi amministrativi, nel comune, nel caso particolare, e danno lavoro a centinaia e centinaia di soggetti spesso svantaggiati, ex carcerati, ex tossicodipendenti, ma anche giovani disoccupati. Quindi sono una realtà molto, molto, molto importante. Il cosiddetto privato sociale, che affiancato oggi dal volontariato, sopperisce laddove ormai il welfare state, o il welfare common, non arriva più. Ora, cosa sta succedendo, Roma? Sta succedendo che queste cooperative che si occupano di verde, di assistenza agli anziani, di assistenza agli immigrati, di assistenza anche agli zingari, di assistenza in generale a tutte le fasce disagiate, si occupano di pulizia negli enti pubblici, insomma hanno una svariata gamma di attività, da circa 6-7 mesi non vengono pagate, al punto che fino a qualche tempo fa le loro fatture non venivano registrate dal Comune proprio per non essere pagate. La situazione è esplosiva e nell'articolo che pubblichiamo oggi noi riportiamo le lamentele che vengono da queste cooperative e che, badate bene, sono bianche, rosse, nere, di tutti i colori, per l'atteggiamento di un assessore che, secondo loro, è troppo distaccato rispetto all'esplosività del problema. E pensare che l'assessora Rita Cutini viene dalla comunità di Sant'Egidio, che è veramente un colosso multinazionale della carità cristiana e quindi, se queste cose non le capisce lei, chi le può capire? Se l'articolo vi interessa e volete commentarlo e entrare nel tema, qui sotto potete farlo. Per il momento vi saluto e grazie.